Queste sono alcune delle matrici e probabilmente stanno a parete e mi accompagnano per un po' fin tanto che spontaneamente non cadono, dopodiché entrano anch'esse a far parte di quello che io definisco un po' il purgatorio di carta. In questa terra di mezzo che è il suolo che calpesto e quando calpesto il suolo calpesto anche le matrici, cioè probabilmente calpesto anche la bravura. Quando si accumula in eccesso vengono raccolte in grandi sacchi e gettate, perché poi alla fine mi rendo conto di avere comunque un atteggiamento un po' ritualistico. C'è sempre una parte che deve essere sacrificata. La cosa peculiare è che oggettivamente io sacrifico sempre quella parte con cui io entro direttamente in contatto. Le opere definitive sono opere che accolgono dei negativi, ma il mio segno direttamente avviene e si verifica nella matrice, che è una matrice che non entra mai in circolazione dal punto di vista commerciale. E quindi questa parte che io sacrifico è appunto la parte su cui io direttamente intervengo. La tecnica è tutta una tecnica indiretta, nel senso che ogni singola immagine viene prima disegnata su un frammento cartaceo, sempre di carta da spolvero, oleata, parzialmente asciugata, e con una tecnica molto simile a quella del monotipo, con uno strumento che mi sono fatto fare da un fabbro, ogni immagine viene riportata sulla superficie definitiva. Queste immagini che viene trasferita è una specie di... e l'accumulo di queste immagini vanno a costituire quello che è il grande negativo, che poi alla fine è la grande opera. Il punto di partenza, che poi è anche quello di arrivo fondamentalmente, è l'umano. Sono gli sviluppi dell'umano, le evoluzioni o le involuzioni dell'umano. Da principio i corpi che rappresentavo avevano il loro referente certo. Ad un certo punto tutti i segni hanno cominciato lentamente, più o meno spontaneamente, ad affrancarsi. Mentre questi corpi e queste rappresentazioni si allontanavano dalla realtà, cominciavano un loro cammino metamorfico che lentamente li induceva a tentare nuove forme. Oggi all'interno del mio lavoro sono presenti ancora corpi, ancora corpi perfettamente riconoscibili, ancora porzioni di corpi perfettamente riconoscibili. Ad un certo punto questi corpi hanno cominciato a sciamare, hanno cominciato a moltiplicarsi, a pullulare, a parcellizzarsi. E stavano migrando appunto verso delle forme ulteriori. E in questo declinare si sono sviluppate sia queste forme fitomorfe, sia degli elementi che, visti oggi, possono apparire come elementi astratti. In realtà, quello che oggi a me sembra più interessante è questo dialogo aperto che c'è tra irriconoscibile e qualche cosa che ancora non si è debitamente espresso. Una mia opera è come una specie di scrittura. È il lento sviluppo di un alfabeto simbolico, in cui ogni elemento entra in dialogo con l'elemento adiacente o ancora più lontano. Ho una responsabilità precisa, che è quella di sviluppare la mia conoscenza del mondo e dell'umano. La mia responsabilità precisa è quella di potermi disporre ad un cambiamento di punti di vista, però senza mai perdere di vista quello che è l'oggetto principale, che è un oggetto in trasformazione. La responsabilità è solo e esclusivamente questa. È una responsabilità fortemente individuale, ma che se portata fino in fondo, credo, non può evitare di avere dei riflessi su tutto ciò che ci circonda. Fondamentalmente l'opera in sé o lo sviluppo dell'opera in sé, ma così come anche il mio sviluppo, non hanno un collegamento diretto con ciò che viene definito contemporaneo. A me interessano soprattutto le commistioni. Amo particolarmente la lettura, la saggistica. Ho cominciato praticando soprattutto testi di filosofia greca, per poi andare verso testi di filosofia più generale, arrivare alla psicanalisi. Un grosso momento della mia vita è stato dedicato alla Khan. Sono assolutamente affascinato da quel che l'uomo concepisce dinanzi al vuoto. E con questo introduco l'altro argomento che mi è caro, cioè che è quello della scienza, dove la visione scientifica coincide perfettamente con un atteggiamento immaginifico. C'è un momento in cui la ragione non basta più, i postulati non sono più sufficienti, c'è un salto che si sviluppa e quel salto è sempre un salto immaginifico. Io credo che l'artista sia qualcuno che ha un occhio più allenato degli altri, che è capace di rapire molto di più con lo sguardo di quanto siano capaci altre persone. Se questo poi induca, cosa che è probabile, a delle forme quasi di preveggenza, questa è una questione aperta. La cosa più faticosa è rivoluzionare il proprio mondo ogni volta. Non è tanto adoperarsi in maniera efficace perché quell'idea prenda corpo. Il problema è possederla, quell'idea. Il problema è avere ancora una nuova immagine, subire ancora uno smottamento del proprio immaginario. Questa è la parte che in realtà sostanzialmente è più lunga a darsi. Non tanto le notti, perché sono soprattutto le notti quelle che io adopero per lavorare, che io passerò dal momento del concepimento in avanti. Ma è quell'attesa. È quell'attesa che questa idea trovi un fondamento. È quell'attesa per cui l'idea deve trovare un suo assestamento che oggettivamente possa provocare uno scarto rispetto al prima.